Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, a tutti ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore che non possiamo fare un recupero quindi un ripristino riguardo al ripristino di fabbrica del tuo pc quindi in questo caso ti esce tipo un errore che tu non puoi ripristinare il tuo computer quindi in questo caso se tu vai sul prompt dei comandi e segui come amministratore questo cmd fai ctrl v te l'ho lasciato in descrizione quindi devi copiare e incollare questo comando questo qua fai slash enable però prima di fare questo se tu scrivi info ti fa capire se tu hai abilitato questa cosa quindi in questo caso io posso fare il ripristino al mio pc quindi per abilitare questa cosa enable e abbiamo abilitato così l'operazione per ripristinare il nostro pc operazione riuscita ora vado sul mio sistema mantieni i miei file questo lo annullo perché non mi serve e io lo posso fare quindi ti ho lasciato questo comando in descrizione tu basta che lo metti sul prompt dei comandi quindi avvia cmd questo cmd come amministratore quindi mi segui come amministratore e comincia a incollare questo questo per l'info per capire se lo tieni abilitato e questo per abilitare l'operazione quindi se ti è stato utilissimo questo tutorial iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao ciao